Le informazioni che la gente vuole sapere, noi cercando di fare al meglio quello per il quale siamo pagati e dobbiamo fare nel quotidiano. Allora però era giusto così per Natale farci gli auguri, gli auguri insomma per Natale sono di un anno, di un anno che sia, credetemi, se intendo i colleghi che loro conoscono molto bene Perugia, ci hanno lavorato da tempo e hanno dell'esperienza anche per questa, in realtà perugina, che sia un anno che sia, che vada avanti come è andato questo, senza gravi episodi delinquenzali, senza qualcosa che in passato ha atturpato la tranquillità della gente di questo territorio. Noi credo che come struttura, questa struttura ha iniziato un percorso anni prima, non l'ho iniziato io, ma l'ho iniziato io, l'ho iniziato i miei predecessori con l'aiuto di tutti loro, un percorso che credo che sta portando i risultati per il quale si era pensato per avviare questo percorso, in un centro un po' più libero, dove c'è meno presenza criminale, un percorso che è costato enormi sforzi da parte della Polizia di Stato, non è tanto il posto di Polizia, ma io penso a decine di accompagnamenti fatti, accompagnamenti fatti anche in Tunisia, in Marocco, alle puntine retate, fatti in Marocco, serale e notturne, con costi da parte dello Stato elevato, uno sforzo che ha visto sempre anche, laddove l'attività si svolgeva nel campo della Polizia giudiziaria, abbiamo anche il combinamento della Polizia giudiziaria. Credo che oggi la situazione al centro, lo dico io perché sono arrivato da poco a Perugia, da un anno, è cambiato, e se è cambiato è cambiato, a vedere che è un impegno continuo, ma a vedere l'impegno di questa struttura della Polizia, di tutti i colleghi che sono presenti qua, ha potuto ottenere un risultato perché c'è stato un altro impegno della società civile, quindi anche la società comunale, e di cittadini che hanno occupato gli spazi che abbiamo liberato a noi, noi possiamo liberare gli spazi, la gente deve rieoccupare, perché non possiamo presiedere tutti gli spazi, noi li liberiamo, li devono presiedere alla gente con noi, e quindi iniziative come la cena sui darini del Duomo o altri fatti, ben bene, e noi su questo ci siamo impegnati veramente tanto, è quello che noi, avanti, è quello che noi abbiamo forse anche privilegiato le fasce più deboli, che sono i bambini con una serie di impegni nel campo dell'ufficio minore, le donne, e quindi parliamo di violenza, e credetemi, gli anziani, e quindi cercando di sensibilizzare la serie di furti, e credetemi, il quarto soggetto che noi abbiamo portato con attenzione, e proprio oggi ne abbiamo discusso con alcuni, sono gli imprenditori. Io credo che anche l'operazione antimafia ultima fatta deve rivolgersi a chi fa impresa, una società riparte, il crimine diminuisce, se riparte l'occupazione, se riparte l'attività economica di un territorio. Io credo che non bisogna solo liberare, ma bisogna aiutare chi fa impresa pubblica, chi fa impresa sana. Credo che le operazioni di polizia fatte in passale sono state utili per questo. E credo che andare in conto alle esigenze di chi fa impresa, ultimamente qua sono avvenuti vari imprenditori che volevano così delle corsie nei livelli della legge privilegiate, per quanto riguarda la felicitazione dei permessi di soggiorno di imprenditori stranieri, o anche di studenti stranieri. Noi lo posso dire, noi abbiamo dato oggi con la collega Tomaselli, l'Università Pestale abbiamo dato il via libera a tutta una serie di iniziative che possono iniziare a facilitare lo senere che viene a Perugia. Noi non possiamo mettere paletti che a volte l'organizzazione ci impone, ma laddove possiamo dobbiamo andare in conto, perché solo così tutti dobbiamo muoverci all'unisono. Non solo, la polizia non deve essere una parte distante dallo stato, ma deve fare parte di questa comunità. E questo è il nostro intento, ed è questo secondo me il motivo perché siamo tutti quanti i po' presenti. Il questore rappresenta la questura, ma il lavoro lo fanno loro, io lo faccio un bel conto. Io lo rappresento, sicuramente posso avere solo un compito, cerco di farlo al massimo, di mettere nelle migliore condizioni psicologiche di lavorare, di mettermi sereni. Loro l'hanno sempre fatto, quindi se c'è un ambiente più sereno penso che lavorano a merito. Questo ci provo, se poi ci riesco lo diranno loro, ma credo che io sono altamente soddisfatto, quindi non volevo fare solo ogni augura a voi, ma volevo ringraziare loro e tutti i loro personali, c'è il collega di Castello pure, dico che ha lavorato benissimo in un territorio dove c'è una grossa presenza di criminalità dovuta allo spazio, hanno fatto operazioni brillanti, dove c'è il collega della mobile, l'ultima operazione, vedete, la mobile, e questo viene do atto, non guarda solo le grandi operazioni, ma riesce a contemplare le grandi operazioni con operazioni come queste che diventano grandi per il significato, perché la gente vuole questo, perché la gente della televisione si è diffusa, quindi viene do atto, la mobile sta prendendo un assordinario lavoro e quindi ringrazio anche il collega della mobile, quello di Castello, poi c'è una collega che ha, la questura è fatta di tanti uffici, quelli che ci mettono la faccia sono alcuni, ma ci sono altri uffici che lavorano ovviamente un po' più di lì, c'è la collega Sambuchi che si occupa di uffici molto, meno visibili però fa ordine pubblica che si occupa di uffici del personale, perché la gestione del personale è la cosa più complicata che c'è, per poter far andare avanti l'ufficio ci vuole una gestione del personale santo, equilibrata, corretta e anche degli automedici. Il nostro medico, il nostro rispondimento sanitario, ma voi sapete che qua le stagioni del sabato sera, l'impegno che loro mettono il sabato, la dottoressa è tornata da qualche giorno da Casablanca, no? Le ha accompagnate un marocchino scancenato che era pericoloso, no? Stavo oggi sui giornali, per questo è stata una strada. Perché noi abbiamo detto, un cittadino scancenato che esce dal carcere è ad altissimo rischio noi dobbiamo fare in modo di non fargli, ma di riaccompagnare al suo paese, è uno sforzo però se è questo, abbiamo capito che è questo